Una assemblea dei gilet arancioni a Ruvo dopo la nuova bocciatura del provvedimento sull'agricoltura previsto nel decreto semplificazioni. Una bocciatura che ha reanimato la protesta dei gilet arancioni, questa volta ancora più compatti ed aggregati di prima. Tra le altre cose, ieri, 31 gennaio, era la giornata in cui ci sarebbe dovuta essere la visita del ministro dell'agricoltura a centinaio proprio in Puglia, una visita annullata senza una nuova data. Ed il rappresentante dei gilet arancioni spagnoletti Zeoli ha avuto parole durissime contro il ministro e più in generale il governo annunciando già diverse nuove forme di protesta a partire dai prossimi giorni. Si andrà anche a Roma, andiamo il 14, il 14 San Valentino, dimostriamo il nostro amore per la terra in un altro modo e ci facciamo trovare a Roma. In questo periodo però noi continueremo a fare dei presidi nei vari comuni importanti, occuperemo i comuni, sotto i comuni, i trattori, e tutto questo continua la nostra avvertenza, non si ferma perché risposte non ne abbiamo avute, anzi negative, veramente vergognose da parte della politica. Non abbiamo ottenuto questo decreto blindato, il ministro che doveva essere qui con noi oggi in un'assemblea aperta e sentire gli agricoltori dalla Puglia, del sud, sempre dimenticato, oggi ha dato buca. Questo ci fa fortemente arrabbiare perché al tavolo ha dato la parola e per gli agricoltori la parola vale la parola, cioè basta una stretta di mano che noi facciamo qualsiasi contratto. Non è stato così col ministro e quindi siamo molto, ma molto, ma molto arrabbiati. Come detto, in particolare il 14 febbraio è stata già annunciata la protesta a Roma con gilet arancioni e trattori, attorno alla protesta pugliese infatti si stanno aggregando anche diverse altre regioni. All'assemblea invece ha partecipato anche una rappresentanza dell'Istituto Tecnico Agrario di Andria con studenti che hanno esposto uno striscione eloquente. Non toglieteci il futuro. Presenti anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori, per tutti una battaglia comune e senza distinzione, hanno ribadito quattro, come ormai più volte ha ribadito, i punti sul tavolo da parte dell'agricoltura pugliese. Fondamentale è il riconoscimento dello stato di calamità per le gelate dello scorso anno che hanno azzerato la produzione olivicola su tutto il nord barese ed il sud foggiano. Serve, hanno ribadito durante l'assemblea i gilet arancioni, il riconoscimento delle giornate lavorative per gli operai rispetto all'anno precedente, perché altrimenti in tanti non riusciranno neanche ad accedere alle forme di sostentamento riservato ai braccianti. E poi la xylella, problema partito nel 2008, da pochi alberi in Salento è giunto sino alle porte di Bari con circa due milioni di piante ormai malate e nessuna risposta concreta dalla politica. È una piaga assolutamente pericolosa nella quale i produttori devono trovare la maggior coesione e partendo proprio dalle buone pratiche agricole dobbiamo cercare di debellare quella che è l'avanzata del batterio e quindi prima di tutto dal vettore e poi successivamente dal batterio.